Siamo qui con la Lega dell'Ottavo Municipio, la consigliera Raffaella Rosati, il coordinatore Maggi, di fronte a Parco Caduti del Mare, qui alla Garbatella, ed è un parco che rappresenta il simbolo del degrado nella città di Roma, perché è un parco insicuro, che è stato chiuso, quindi è inutilizzabile per anziani, bambini, all'interno c'è anche un auditorium straordinario, così come l'aria cani, insomma c'è una situazione di fortissimo degrado, nella città di Roma, in questo caso la collaborazione tra il 5 Stelle e il centrosinistra, perché la responsabilità è anche e in particolare della maggioranza di centrosinistra, Ciaccheri, qui al Municipio Ottavo, noi abbiamo chiesto con forza, con atti concreti all'interno del Municipio, la riapertura del parco, ma soprattutto andremo avanti insieme ai cittadini, tantissimi che ci sono venuti a trovare qui oggi per la manifestazione che abbiamo fatto, per dare un segnale di accelerazione su questo tipo di situazioni, per dare un segnale di presenza delle istituzioni, perché è inaccettabile che uno dei pochissimi parchi, se non l'unico più importante al centro del quartiere, possa essere lasciato in questo degrado inaccettabile.